Semi Peter Duca, ti dice niente a sto nome Barò? So che è il nome. Per favore andatevi, non l'avete prenotato. L'ultimo che mi ha detto per favore andatevi, non l'avete prenotato, mostra in una bara dentro a un pilone dell'autostrada. Scusa, o in un pilone o in una bara. Rapire i cani della regina Elisabetta II intrufolandosi dentro Buckingham Palace. E questo l'obiettivo di Lillo e Greg, protagonisti di Natale a Londra, Radio Salvi la regina, nuovo cine panettone diretto da Wolfango De Piasi in questi giorni nelle sale. Il quinto per il duo comico, che ci ha preso gusto. Abbiamo cominciato con Due figone di parenti, il primo piuttosto fortunato perché era un episodio azzeccato che ci ha, che ha fatto decidere alla Film Mauro poi di andare avanti con noi anche per i film avvenire. Insomma, quindi sì, sono già cinque anni. Però ho portato le cinque anni. Cinque anni, sì. Faremmo volentieri un film che non fosse quello di Natale. Molto volentieri. Se non farlo diventare proprio, capito, impiegatizio come lavoro, capito? Che cos'è questo? È un filetto di fassona. E da dove proviene? Proviene da capi allevate al Pasqua, un'estabulazione libera. Nutriti con cereali e foraggio, coltivati rigorosamente con agricoltura biologica e macellati artigianalmente. E com'è stato flambato? È stato flambato con brandy vecchiato a 27 anni e condito con pepe verde del malabarco. E quante cotture ci sono per un filetto così prelibato? Una, questa! Un cinepanettone in cui si ride, ma c'è anche avventura e azione. Cinepanettone è il termine giusto perché è un termine che riguarda, sì, che hanno dato per un film che esce sempre a Natale. Quindi va bene cinepanettone, non lo trovo neanche disfregiativo o negativo come termine. Il fatto che sia cambiato è cambiato sicuramente perché ci siamo diretti verso quella... cioè intrattenere, far ridere, essere per la famiglia però seguendo un'avventura e quindi con scene d'azione e tutto ciò che ne segue. E poi, più che altro, rispetto al passato, questi cinque film che abbiamo fatto noi hanno un senso dell'umorismo senz'altro molto differente da quelli di prima, anche se all'interno del film ogni tanto fioccano comunque delle cose facilotte per il piacere anche a altri tipi di pubblico. Se la vuoi conquistare devi fare tre cose. Ti devi imporre. Tu ti devi fare rispettare papà. Levati di mezzo. Levati di mezzo. Ma quali caratteristiche deve avere un film di Natale? Un film per la famiglia fondamentalmente, quindi è un film che deve abbracciare ovviamente il più pubblico possibile. Deve avere molto spessore psicologico. Questo fa sì che il film di Natale debba essere un film divertente soprattutto secondo me. Cioè un film di relax. Un film dove tu stai lì, passi due ore, in puro relax, ti diverti, non pensi ad altro. E non è per niente facile farlo in realtà. Al fianco di Lillo e Greg, Paolo Ruffini, Nino Frassica, Leonora Giovanardi, Ninetto Davoli, Uccio De Santis e Enrico Guarnieri. Sei proprio sicuro? Io al posto tuo non mi fiderei per l'oroscopo.